Il gruppo OFS Italiane interviene a sostegno del grande associazionismo italiano, Caritas di Roma, Caritas Ambrosiana, Comunità di Sant'Egidio e Associazione Centro Stalli, per concreti progetti in aiuto delle persone disagiate che durante l'inverno si rifugiano nelle stazioni ferroviarie. L'intervento straordinario riguarderà le stazioni di Milano, Torino-Portanuova, Roma, Genova-Piazza Principe e Napoli. Intensificato anche l'impegno sociale degli Earth Center FS nelle stazioni di Firenze, Bari, Catania, Messina e Pescara. A Milano la collaborazione con Caritas Ambrosiana prevede, attraverso il progetto Unità Mobile, l'accompagnamento in strutture dedicate delle persone disagiate. Con Caritas di Roma, invece, è stato avviato un piano straordinario che va dalla somministrazione di generi di prima necessità all'incremento dei posti letto nelle strutture di accoglienza della capitale. L'accordo con la comunità di Sant'Egidio prevede il potenziamento degli interventi di aiuto attraverso equip mobili di operatori a Genova-Piazza Principe, Torino-Portanuova-Napoli-Centrale, Napoli-Campi-Flegrei e nelle stazioni romane di Roma Termini, Roma Ostiense e Roma Trastevere. La collaborazione con il Centro Stalli, infine, si concentrerà sull'aiuto ai rifugiati politici che trovano ricovero presso le stazioni della capitale. In vista del rigore dell'inverno è anche scattato il piano DFS italiane per la distribuzione alle persone senza fissa dimora di 2.500 coperte e attraverso gli Help Center e le associazioni coordinate dall'Osservatorio Nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni.